Nella giornata di ieri gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Quarto Sant'Elena durante una perquisizione finalizzata alle ricerche di stupefacenti hanno tratto in arresto un uomo per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, un incensurato di 31 anni domiciliato a Quarto Sant'Elena, è stato trovato in possesso di 44 ovuli contenenti eroina e cocaina per un peso totale di circa 600 grammi, occultati all'interno di calze di lana riposte nelle tasche di alcuni giubbotti. Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e sostanze da taglio della droga. Al termine delle formalità di rito il cittadino è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.